Ciao e bentornati sul canale! Bentornati carissimi amici sul canale, qua spunta un paperino, no cos'è qualcosa del mondo di Paperopoli? Super pezzo, io ho visto anche il trailer. Visto il trailer? Ma questo è un Happy Meal di McDonald's. Probabilmente quando uscirà il cinema lo andrò a vedere. Sì? Molto probabilmente. Non so se esce al cinema direttamente in piattaforma. Io qualche giorno fa sono andata a vedere al cinema, Minions 2, come Gru diventa cattivo. Lui non l'ha visto però è molto bello. No, non c'ero io. Vi giuro, me lo consiglio. Allora qui vediamo che quello che abbiamo trovato, che ci hanno dato, è il maialino di Wonder Woman. Che secondo me è il più carino perché è di Wonder Woman. No, io adoro il cane di Batman. Adoro o mi piace tantissimo la tartaruga di Flash, è bellissima. Sì, anche perché le tartarughe di solito dovrebbero essere lentissime. Invece è velocissimo. Questo è lo scoiattolo di Lanterna Verde. Ma è strano che non ci siano... Esatto, fare magari l'animale anche per Cyborg e per Aquaman. No, Aquaman. Sì, Aquaman. Aquaman, Aquaman. Aquaman. E non lo so, mi sembra strano. Magari non ci sono nell'illustrazione, ma ci sono nella serie. Comunque Wonder Woman secondo me l'hai fatta... No, sono solo cinque. In realtà tutti i personaggi, però Wonder Woman in particolare è disegnetta molto bene secondo me. Batman è un po' pacioccone, troppo. Right, andiamo ad aprire il peluche che dovrebbe essere un peluche. Nel corso io volevo trovare Wonder Woman o Wet Girl, però non l'ho trovata. Ok, vediamo com'è. E' carino! Bene che... Guarda quella faccina con fruttella! E' carino? Sì. Lo immaginavo leggermente diverso. Cioè, aspetta, vediamo prima e dopo. Mettilo vicino. Perfetto, identico, eh? Ragazzi di McDonald's, identico, proprio... Perfetto! Ecco, magari... A volte dicevamo basta con la carta, con i mini... Forse in carta veniva meglio. Ecco, si può usare da appendere in macchina, si può usare come portachiavi un po' grossino, per poi chi chiama in particolare. Io ho visto che è uscito tipo... Insomma, poi è gratis, quindi non è che... Lui non me lo ricordo. Crypto. Crypto? Che puoi chiamare il proprio cane, come la cosa che ti può uccidere. Esatto! Cioè, tipo... Crypto! Viene lì! Vabbè, non è fatto di criptonite, però va bene, è lo stesso. Beh, se era di criptonite... Ma almeno me lo aspettavo a quattro zampe, cioè... Sì, ma almeno me lo aspettavo con le braccia! Sì, gli hanno... Con delle zampe! Ha la coda, più o meno, e ha solo due zampe. Però ha il mantello. Però sta cosa mi fa un po' impressione. Sì, non... Almeno fagli le zampine davanti disegnate, cioè... Non dico tanto, eh! Non garantisco che andremo a prendere altri Happy Meal. E prendo i nuggets. Sì, sì... Poi invece, voglio solo tenermi leggera, ma mangiare un po', tipo merenda, no? Perché stai ballando mentre parli? Perché stai schicolando, non stai ballando. E... Prendo Rick e Fry Salette, comunque sono molto buoni. Comunque, i gusti sono gusti, la faccia è comunque simpatica, è un po' il corpo che fa un po' impressione, però è fondamentalmente un portachiavi, una cosa da appendere allo zaino o dove volete. Quindi, insomma, poi è gratis, non è che possiamo lamentarci troppo. Vi ricordo di iscrivervi al canale, mettete un like, condividete, commentate sulla campanella per essere ragionati su tutti i video. Dimmi. Video! Dimmi. Video! Dimmi. Se li facevano di plastica come i video? Allora, secondo me potrebbero fare di piccoli così, come le soffensine Kinder, di plastica piena, come le principesse, o come altre cose che stiamo recensendo. Molto piccoli, ma di plastica, ma stampati bene. Come magari quando trovi il porcellino, trovi anche Wonder Woman. Sì, oppure non lo so, oppure non lo so, ma va bene così. E però un cyborg non lo puoi trovare perché non ha un animale. Esatto, un cyborg non ha un animale. E neanche un cyborg. Avrebbe Beep, che come animale. Per effetti si trasforma in ogni animale possibile e immaginabile. Esatto. E quindi? Noi vi saliamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!